Insieme al Vice Sindaco Gianfrancesco Gamurrini partiamo però da questo messaggio su Facebook che ha fatto molto parlare, anche perché è un episodio brutto quello che è stato raccontato sul social network. Sì, sono episodi, questa volta è capitato a me, potete immaginare i motivi, però è capitato anche ad altri a giugno, nelle altre edizioni, diciamo sono episodi che purtroppo ogni tanto si ripetono e la cosa brutta è che a ripeterli sono quasi sempre le stesse persone, quindi diciamo questo qui fa ancora più dispiacere, non si cresce, evidentemente alcune persone sono rimaste un pochino indietro, dicono di voler bene alla giostra ma non è questo il modo per manifestare l'attaccamento e la devozione a questa manifestazione, vediamo se piano piano riusciamo a fargli ragionare, a fargli capire che forse si può manifestare un disappunto, un'idea diversa ma in altro modo.